Allora siamo con mister Lerro. Mister, dopo il pasticcio che stava succedendo per colpa, diciamo la colpa, ma non è una colpa, per la dei designatori arbitrali, facendo venire qui un ragazzo di appena 16 anni, 17 anni, della sezione di Salaconsina, si cambia l'arbitro, il signor Pica, della sezione di Agropoli, il migliore in campo. In assoluto il migliore in campo, infatti gli ho fatto i complimenti di come è terminata la partita, l'ha tenuta in pugno, determinato, attento, un'ottima prestazione, magari ad averne così di arbitri. Bravo, bravo, bravo davvero. Parliamo della partita. Ancora una volta la Battipagliese esce dal campo con il proprio portiere che non si sporca nei guantoni, nel completino. Zero tiri subiti nello specchio della porta su un campo dove l'antagonista principale della Battipagliese l'anno scorso, domenica scorsa, fino all'ottantesimo era sotto 1-0. Sì, 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 è un'ottima, insomma, secondo me stiamo raggiungendo un'ottima condizione sia fisica che mentale. La squadra ancora una volta ha determinato il gioco per tutto l'arco dei 90 minuti. Giustamente, come hai detto tu, il portiere inoperoso ancora una volta, però voglio sottolineare che abbiamo fatto comunque una grande battaglia perché dal punto di vista agonistico questa squadra non ci ha regalato nulla, stavano sul pezzo, protestavano in continuazione, insomma, l'ambiente non era facile perché vedere 400-500 persone su un campo di seconda categoria, questo solo è grazie all'arrivo della Battipagliese, quindi tutte le partite sono sempre, dal punto di vista agonistico, tirate. Però bene, bene ancora, dai, bene così. Sabato l'obiettivo è quello di continuare solo ed esclusivamente con i tre punti. Sì, sì, no, ma infatti noi dobbiamo solo pensare a fare vittoria. Poi per il resto, insomma, stiamo lì, ce la stiamo giocando. Se non era l'errore tecnico che abbiamo, insomma, combinato, penso che oggi eravamo leader indiscussi di questo girone. Però non fa niente, andiamo avanti, continuiamo a lavorare. È un applauso particolare, lo voglio fare ai ragazzi per l'impegno che ci stanno mettendo. Anche i tifosi che oggi sono venuti fin qui a Sala Consilino, copiosi, numerosi. Quindi grazie a tutti e sempre forse.